benvenuti su questo campane piccolissime oggi è un video particolare che hanno campanelle guardate sono con brellantini che hanno fatto è un fiocco un po la fame da oro quello qua mi trovo in casetta però sono pure di campane aspetta facendo bottiglia voglio vedere le mie campane che suonano alla sala e oggi però oggi se ascolteremo le mie campanelle queste campane avevano qualcosa un po piramide ho fatto così 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 campane gigante fatto anche con la campana e questo è il battaglio è un battaglio che suonano le campane vedi quasi un fiocco qua non so mica ok ehi allora stai bene siete pronti ci andiamo alle no niente ecco qua oggi no fatto ci vediamo su roblox ci vediamo domani mettete like scrivetelo per campanella mia ciao